Donna Lissia Ti prego di scusarmi ma adesso ho un po' di fretta Solo un istante, volevo notizie del nostro malato Si sente meglio? Ora l'importante è che riesca a recuperare le forze È proprio di questo che volevo parlarvi Conosco alcuni rimedi che le aiuteranno a riprendersi Non è vero Sì. 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 C'è qualcuno? C'è qualcuno lì? Ho bisogno di aiuto, per favore. Alicia, Alicia, che vuoi fare? Diego. Diego, sei tu? Stai bene. Non muovetevi, signora Murchia, e lasciate quell'arma. Ayala, non crederete che io... Io non credo a niente, solo a quello che vedo. Che è successo? Mi ha tenuto prigioniero in una cella. E ora ha cercato di uccidermi. Vi giuro che io non ho fatto niente. Fernando, mettete le manette alla signora Murchia. No, davvero, tutto questo è un errore. La pistola non è mia, non so perché sia qui. Voi siete in arresto per il tentato omicidio di vostro marito. No. Un medico. State tranquillo. No.